La proposta è stata approvata all'unanimità. L'aula di Palazzo del Pegaso ha approvato il nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate. Su 33 votanti, in 21 si sono espressi a favore e 12 contro. Nello Statuto della Regione Toscana ci sarà un forte richiamo all'antifascismo e alla promozione della memoria della resistenza. La proposta di legge in prima lettura è stata approvata all'unanimità. In particolare nei principi generali viene rilevato l'antifascismo come principio costitutivo dell'ordinamento regionale. Io sono orgoglioso del voto dell'Assemblea Legislativa. All'unanimità si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra Regione. La Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire tutto questo all'interno dello Statuto, della Carta Costituente dei Cittadini e delle Cittadine Toscane. La Toscana è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso Alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte dell'accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. Il Consiglio regionale ha deciso di modificare in prima lettura lo Statuto, inserendo il richiamo all'antifascismo nella consapevolezza che da sempre la Regione Toscana promuove la cultura della resistenza, la cultura della memoria e ha anche nel suo simbolo più rappresentativo il Pegaso Alato, ereditato dal Comitato di Liberazione Toscano, il richiamo a quegli anni e alla lotta al nazifascismo. Per questo motivo si è ritenuto opportuno, con una proposta che alla fine è stata largamente condivisa da tutto il Consiglio regionale, di andare ad incidere sullo Statuto, inserendo al suo interno un richiamo alla cultura della resistenza e all'antifascismo come un valore fondante del nostro ordinamento giuridico. Si è conclusa la prima lettura in aula che ha portato alla modifica dello Statuto. L'appuntamento adesso è tra due mesi per la seconda lettura. A quel punto la proposta di modifica dello Statuto potrà diventare legge di riforma dello Statuto e quindi lo Statuto della Regione Toscana sarà arricchito da questo importante riferimento alla cultura antifascista. I valori dell'antifascismo, i valori della resistenza sono dei valori fondamentali per la Costituzione italiana, lo devono essere, lo sono da oggi anche per lo Statuto della Regione Toscana, due principi fondamentali che devono accompagnare il nostro agire, la nostra azione di registrazione. Può essere un dato scontato ma non lo è il fatto che abbiamo voluto modificare lo Statuto e inserire questi principi all'interno della Carta fondamentale della Regione Toscana con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa. Vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana, unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento di valori fondamentali che devono guidare il nostro giro. Ricordare, segnare nello Statuto della nostra Regione questi valori è un elemento costitutivo che impegna tutti noi nel promuovere e nel difendere le nostre libertà il momento in cui la guerra e i totalitarismi hanno dimostrato che insomma quello che è successo soltanto 50-70 anni fa non può essere dimenticato. Noi abbiamo convintemente lavorato sia in Commissione e chiaramente poi con un voto affavorevole in Aula l'adozione di questa modifica statutaria. Abbiamo al tempo stesso però voluto capire, attivando con la presentazione di un emendamento il dibattito in Aula per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente portato all'attenzione di tutti i paesi d'Europa quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra smisconosciuto ancora in quest'Aula dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà di discriminazione, di persecuzione fatto salvo le esperienze nazionali di antifascismo, di anticomunismo che ogni paese europeo ha conosciuto nel periodo che intercorre tra il 1917 e il 1989 ma l'abbiamo fatto senza esito si è cercato di innescare un dibattito d'ordine ideologico molto molto triste, molto molto anche parcellizzato con riferimenti e contesti che appartengono sostanzialmente a tutti come a tutti appartiene dalla radice antifascista su cui si basa la nostra Repubblica e chiaramente è così sancita nei testi della nostra Costituzione ma volevamo cercare di far capire che probabilmente oggi la questione per essere compresa a livello globale andasse sostanzialmente presa nell'ottica di condannare invece il fenomeno nella sua complessità Abbiamo votato a favore dell'inserimento del concetto, del principio dell'antifascismo nel nostro statuto perché mai come oggi la lotta ai totalitarismi passa soprattutto dall'aspetto culturale e l'aspetto culturale deve essere sostenuto e incoraggiato anche dalle istituzioni questo è sicuramente un modo positivo di farlo, di proporlo anche perché l'Italia deve per certi versi fare ancora i conti con la propria storia che ormai si può dire non è più recente quel ventennio ha segnato la nostra cultura, ha segnato la nostra storia ed è importante fare memoria di quel tratto della nostra esistenza proprio per far sì che quel tipo di esperienza non si debba ripetere più e per sottolineare che qualunque rigurgito di fascismo, nazismo che ancora purtroppo emerge in questa società deve essere con forza ricacciato indietro Sicuramente una proposta di legge statutaria sulla quale non potevamo non trovare una convergenza come già accaduto in Commissione questo però non ci esime dal fare un piccolo rilievo rispetto alla discussione in aula una discussione che a tratti può sembrare quasi anacronistico affrontarla nel 2022 di fronte a una emergenza economico-sociale che tutti quanti ben sappiamo però quando si parla di valori condivisi di una piattaforma, di principi che devono essere patrimonio di tutti quanti i toscani io credo che il dibattito debba svolgersi nel modo più completo possibile di fronte a degli emendamenti presentati anche dall'opposizione che in qualche modo avrebbero arricchito sicuramente anche il testo avevamo chiesto il ritiro della pidella statutaria per un approfondimento ulteriore in Commissione perché ripeto, laddove si vada a toccare la nostra carta fondamentale credo che si debba trovare la maggior convergenza possibile non ci siamo riusciti però certamente ecco, oggi nel 2022 credo che su certi valori fondanti della nostra democrazia certamente non ci possa essere nessun tipo né di dubbio né di contrapposizione ideologica L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate che prevede l'accessione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana in modo da assicurare il controllo della società entro febbraio 2023 con votazione per appello nominale su 33 votanti 21 consiglieri si sono espressi a favore e 12 contro Il piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato quanto agli aspetti programmatori modificato andando incontro alle valutazioni che sono state compiute dalla Giunta regionale toscana con riferimento a Fidi Toscana a Sviluppo Toscana e anche a IMM Carrara Fiere SPA da una parte si è registrata la volontà della costruzione di una unica società in house della regione toscana che si occupi della programmazione dello sviluppo economico della regione concentrando in sviluppo toscana questa funzione dall'altra parte però c'è la prospettiva contestuale all'alienazione delle quote in Fidi Toscana di arrivare anche a un rilancio di Fidi Toscana mediante l'accessione di quote a investitori privati che ne rilancino la mission e inseriscano Fidi Toscana in un programma di sviluppo della regione che però sia differenziato da quello di sviluppo toscana del resto la legge Madia ma anche la Corte dei Conti impone che non ci sia una duplicazione di società partecipate che svolgano la stessa funzione e quindi la programmazione regionale si è orientata nel riconoscere da una parte in sviluppo toscana la società in house che dovrà curare in maniera complessiva e generale lo sviluppo economico della regione e dall'altra parte distinguendo le funzioni la mission e anche la compagine societaria di Fidi Toscana La posizione della Lega è chiara noi siamo molto preoccupati per quello che vediamo come un conservatorismo della giunta regionale che è in grado di dire tutto il contrario di tutto e poi in realtà rimane sostanzialmente ferma e questo ci preoccupa proprio per lo stato di cose che abbiamo in Toscana guardiamo le partecipate il tema della partecipate e soprattutto Fidi Toscana in campagna elettorale si dice che si vuole rendere interamente pubblico il capitale di Fidi ora si fa questo cambiamento repentino e veramente drastico di linea e si mettono le azioni di Fidi sul mercato ci domandiamo quale sarà il soggetto imprenditoriale in grado di mettere 20 milioni di euro per una società che farà soltanto garanzie a digestione delle garanzie ecco sostanzialmente noi siamo molto perplessi che possa andare avanti una situazione del genere e che possa esserci un futuro rosio per Fidi Toscana il sviluppo Toscana dovrà essere invece la società che prenderà il posto di Fidi e abbiamo anche delle perplessità per quanto riguarda anche la partecipata di internazionale marmi a macchine di Carrara proprio perché ci sono degli scostamenti significativi rispetto al piano industriale 2021-2024 il voto di Fratelli d'Italia sul piano di razionalizzazione delle aziende partecipate della regione toscana è stato un voto contrario è semplicemente motivato da due aspetti che non ci convincono per niente il primo è la totale discrezionalità lasciata alla giunta e ai soci privati di valutare le eventuali offerte che potrebbero arrivare per l'acquisizione di Fidi Toscana non c'è scritto da nessuna parte un criterio oggettivo finanziario in base al quale un'offerta dovrebbe essere valutata congrua o meno è lasciato tutto alla discrezionalità e permettetemi la giunta regionale due anni fa la giunta in pectore sosteneva la necessità di trasformare Fidi Toscana in una società in house un anno dopo è arrivata dicendoci che la vuole vendere non mi sembra che abbiano proprio ben chiara la rotta da seguire così tanto da poter rilasciare la discrezionalità di valutare le offerte il secondo aspetto è che c'è un tecnicismo in uno degli allegati che prevede la vendita di un pacchetto di azioni di maggioranza di un pacchetto di maggioranza misto pubblico privato nel quale la regione si riserva di avere un minimo del 10% questo tradotto che vuol dire? vuol dire che noi potremmo arrivare a vendere sì il 50, il 60, il 70 all'80% di Fidi Toscana ma alla regione venderne soltanto un 10% quindi potrebbe succedere per assurdo che la regione toscana si potrebbe ritrovare un domani ad avere Fidi Toscana ancora di proprietà ma avendo perso ogni possibilità di determinarne le scelte la riorganizzazione delle partecipate è un passaggio non solo economico finanziario della regione ma che detta gli aspetti strategici e dal punto di vista delle strategie che la regione toscana ha in mente per il futuro manca ancora il piano strategico regionale che è un documento che deve essere proposto a inizio legislatura che dovrebbe essere anche il documento fondamentale che fa capire quali sono le nostre intenzioni nei confronti delle partecipate della regione del loro ruolo della loro funzione cosa potenziare cosa eventualmente dismettere la questione di Fidi Toscana ad esempio credo che sia stata gestita in una maniera non corretta perché prima si è dato un certo indirizzo nel corso di questi cinque anni nell'ottica di un in house quando invece adesso le prospettive che sembrano aprirsi sono completamente diverse ecco questa mancanza di una programmazione e di una linea di continuità ci preoccupa molto un no netto un no netto perché noi oggi facciamo un salto nel buio si tratta forse come dire di un atto che può essere visto con tratti di formalismo si tratta di dare di codificare una decisione della giunta che naturalmente è un cambio in corsa rispetto a quelle che erano state precisi impegni di campagna elettorale precisi impegni di campagna elettorale portare i fili in house che oggi si sono scontrati con diciamo una consulenza che di fatto come dire ha smentito le indicazioni della giunta iniziali certo è che mentre con l'operazione di fili in house le risorse per questa operazione erano certe oggi noi facciamo un salto nel buio anche la prospettiva di sviluppo toscana che dovrebbe essere rafforzata come agenzia di sviluppo oggi è totalmente piena di interrogativi tra l'altro interrogativi che sono riproposti anche con forza negli stessi atti della giunta nelle stesse osservazioni che sono state fatte ai piani industriali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti